Ben ritrovati cari telespettatori, allora come avete visto anche stasera c'è un ospite, un assessore del Comune di Fano, stiamo parlando con, abbiamo qui i nostri studi Caterina del Bianco, assessore allo sport, buonasera assessore, allora naturalmente nell'ambito di una serie di trasmissioni che portano il titolo di Orizzonte Fano ed sono trasmissioni prepedeutiche a un incontro importantissimo che è quella del 4 di marzo, 4 di marzo quando a Fano si terrà un foro urbano, vale a dire ci sarà la possibilità unica e irripetibile di dare il proprio contributo per migliorare la città nella quale si vive. E allora lei è assessore allo sport, verrebbe da dire cosa c'entra un piano strategico con lo sport, c'entra come? C'entra come, sì perché molto spesso gli utenti anche del mondo dello sport sono giovani e mi capita spesso di sognare una città a lungo termine, di fare delle chiacchierate soprattutto sulle carenze di impiantistica sportiva di queste città e di come ci immaginiamo lo sport anche a lungo termine perché sono molto creativi i ragazzi che incontro in questo mondo dello sport e quindi io penso che questa è una bella opportunità anche per tutta questa fascia che si occupa di sport, che lo pratica, che lo vorrebbe praticare in impianti più belli, più idonei per venire a dire la propria e per parlare di una città più sportiva magari fra 20, 15, 20 anni. Naturalmente non mancheranno quelli che segnaleranno per esempio una piscina, una piscina che ormai Fano attende da moltissimo tempo. Sì, tra le carenze sportive più importanti io direi che sono due, la piscina e un palazzetto che si possa definire tale sopra i mille posti. Se sulla piscina abbiamo notizie positive che ancora non abbiamo pubblicizzato ma dovremmo essere indirittura ad arrivo avere delle buone notizie, manca sempre, io mi immagino una città fra 20 anni che abbia sia una piscina sia un palazzetto, quindi anche un posto per delineare le carenze di questa città. Però ci sono invece anche strutture uniche nella nostra provincia che insomma andrebbero... Immaginate anche con... sono questo luogo a cui ti riferisci penso sia il circuito Marconi, la nostra pista Zengarini che è unica nel centro Italia ma anche un po' paesagisticamente in tutta Italia. Sogniamocela anche in modo più partecipato, più vivo perché attualmente è frequentata da 2000 persone a settimana ma si potrebbe fare molto di più, ce lo stiamo immaginando ancora con poche risorse, però sogniamo qualcosa di unico per Fano perché è un luogo che abbiamo solo noi. Ecco lei che è innanzitutto giovane, è una giovane amministratrice, è un architetto, no? Come se la immagina la città di Fano del 2030? Questa è una domanda che ci ha fatto la società che si occupa di questo piano, è stata una domanda molto affascinante. Io mi immagino il nostro centro storico di Fano, pululare di turisti che vengono a vedere la nostra città romana, questo è un po' il mio sogno di vedere tantissime persone che vengono a vedere la nostra città romana che è unica, il centro storico e me lo immagino una città con tanti luoghi per i giovani come quello della Mediateca Montanari che tutti conosciamo ma perché no con altri esempi nazionali, perché poi la Memo è un esempio nazionale ma come quello tanti luoghi dedicati ai giovani, me lo vedo così questo centro storico e lo spero. Ecco, a questo incontro del 4 di marzo si stanno iscrivendo tante persone, c'è però un appello che a questo punto forse è bene che lei come assessore giovane rivolga probabilmente ai giovani. Sì, io credo che sia un'occasione, un'opportunità a questo momento di sabato 4 marzo e l'età media adesso degli iscritti è un po' alta e chiedo quindi a tutte le persone a scuola ci stiamo provando a organizzare con i presidi per far uscire qualche ragazzo dalla classe in quella giornata ma soprattutto alla generazione 20, 30, 40 anni di essere presenti perché la città che ci immaginiamo fra 20 anni è la nostra. E poi insomma va anche detto che tra i partecipanti di queste associazioni sportive insomma ci sono tantissimi giovani che potrebbero veramente dare il proprio contributo per migliorare questa città. Allora, soltanto due cose prima di salutarci, ovvero la prima che ci sono tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione che abbiamo fatto entro il 28 di febbraio all'indirizzo internet orizzontefano.it oppure se siete in città potete fare un salto all'ufficio relazioni con il pubblico che si trova in piazza a 20 settembre, anche lì avrete tutte le informazioni e potrete iscrivervi oppure cercate sulla pagina Facebook Orizzonte Fano. Grazie a Caterina Delbianco, assessore allo sport del Comune di Fano, grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Grazie a tutti.